E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16, oggi siamo nella seconda parte del video degli SCP E sono molto felice di fare questo video E niente, oggi siamo tornati con gli SCP della mod SCP Lockdown Questo video lo sto facendo dopo quello della prima parte Ma uscirà un paio di giorni dopo La volta scorsa avevamo visto SCP 573, 997, 939 e 1048 Oggi non saprei quali SCP abbiamo da vedere ma penso che siano abbastanza belli Come sempre io vi invito a mettere like e a iscrivervi perché mi fate veramente un supporto Adesso direi di iniziare con il video Il nostro primo SCP è SCP 966 Ovvero il killer del sono Non penso che servano spiegazioni Questo è il crafting del token La cella molti di voi se la ricorderanno in un modo mai stata aggiornata Questo SCP qua Non so neanche se riuscirò a spiegarlo per bene tutto Sono... è molto particolare perché Per vederlo perché lui non lo può vedere perché Se voi entriamo nella cella vedete voi Noi non vediamo appunto nulla Ma se noi prendiamo una spada ecco La teniamo in mano E la puntiamo che ne so in giro Aspetta... ecco Qua Aspetta... ecco vedete Qui c'è qualcosa E voi direte ma cosa c'è? Qua c'è Un... uno degli SCP 966 Per vederlo Avrete bisogno di questo oggetto qui Che è un visore notturno Io lo prendo Lo duplico perché lo lascio Se lo indossiamo Aspetta... ecco qua Avremo la visuale tutta verde Possiamo fare N per cambiare la luminosità In modo tale da vedere meglio in alcuni punti E già là voi vedete qualcosa Ecco qua Questi qua Questo qua SCP 966 E' verde perché appunto Noi stiamo usando il visore notturno E ce ne dovrebbero essere Sono 4 Questo l'ho spawnato io adesso Quindi non vale Il loro colore normale E' grigio Si è grigio Loro del colore normale Sono grigio E letteralmente loro Se tu ci entri in contatto Ti daranno degli effetti negativi Che ti impediranno Di dormire E niente Questo qua ci sono altri visori notturni Qua c'è anche una SWOT Che vabbè Vi andrò a spiegare più tardi Che cos'è la SWOT E Non posso Non vi andrò a spiegare Tutti gli stadi di 966 Perché appunto Non li conosco alcuni di loro E non so neanche cosa Cioè se dovessi fare Spiegare tutti gli stadi Faremo un video di 20 minuti E io non sono neanche d'accordo Andando avanti Incontriamo SCP-012 Ovvero La cattiva composizione Il crafting E' abbastanza complicato Perché richiede anche un altro SCP Ovvero SCP-148 E questo SCP E' un po' complesso Da spiegare Perché Si tratta Di una Composizione scritta Con il sangue Che E Lui Allora Intanto non c'è un vetro di osservazione E vi porta Allora la cella Vi porta direttamente Dall'SCP Che è appunto Questo blocco qui Adesso vi farò Un piccolo test In sopravvivenza Quindi Usciamo Andiamo in Game Mode S E se noi guardate Proviamo a entrare Avremo intanto Un effetto di ansia A livello 2 Ma Il nostro Personaggio Guardate Io tengo le mani in alto Il nostro personaggio Si avvicinerà A SCP-012 A tal punto Da arrivare qui E a non potersi più muovere Io sto provando a muovermi In tutti i modi Non posso muovermi Posso solamente Mi sa neanche questo No Non Ci ha letteralmente Bloccato Se noi andiamo In creative Appunto L'effetto Si disattiva C'è l'effetto Di ansia Ma se noi Tipo Teniamo SCP-012 Nell'inventario Vi faccio vedere Che Avremo Gli stessi effetti Ci rallenterà E non potremmo Noi Fare Nulla Perché appunto È come se lui Possiamo dire Che si è Impossessato Di noi Non mettiamo Lo cazzo Dove Quindi raga È un po' Complicata La situazione Perché appunto Alcune volte Si bagga E Anche se tu Lo butti Con la lettera Q Questo qua Si bagga E non ti fa muovere Non so se ci sia Altro da dire Al riguardo E Non so neanche Se questa cosa Che Del funzionamento Sia solo Dal mio computer Perché da un altro Dispositivo Avevo Avevo visto Che tipo Quando ti avvicinavi Questo qua Non posso neanche Usare la keycard E L'SCP Appunto Ti Faceva danno Anche se eri A distanza Questo SCP Non lo consiglio A nessuno Di fare In survival Che è abbastanza Crettino Da fare In survival Tale SCP Morirà malissimo Prossimo SCP Non so neanche Se è l'ultimo Ma penso di si SCP 538 Ovvero Il I ranni Delle ombre Token Facilissimo Da craftare Con le cordicelle E le sacche Di inchiostro In sostanza È molto Complesso Da spiegare Perché Vi spiego Semplicemente Ci sono dei creeper Uccidiamo Creeper Perché si Morite Malissimo Appunto L'SCP Sono Dei 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 Non serve Perché Tipo Tutti Conoscono Questo SCP Eccolo Qua Questo è Uno Degli SCP 538 Shadow Spider Creeper Muori E raga È Abbastanza Complesso Da spiegare Perché Loro Sono Neutrali Vedete Non ci Fanno Nulla Si Arrampicano Anche Sui muri Se Notate Ma Se Noi Diamo Un pugno Guardate Loro Ci Morderanno Ci Toglieranno Mezzo Cuore Ma Shadow Infestation Infestazione Dei Ragni Questo Effetto Può essere Curato Mi sa Con Le Spici Concetto Che andrò A spiegare Mi sa Pi' Avanti E Gli Stadi Aumentano E Quando Finiscono Tu Tu Diventi Tipo Aspetta Ombra Ecco Praticamente Si Crea Nel punto In cui Facciamo Finta Che Noi Siamo Morti Qua Si Crea Questo Strano Liquido Che Si Chiama Ombra Liquida E Spawneranno Degli Appunto Che Cazzo Spawneranno Appunto Degli Shadow Spider Quindi Altri Shadow Spider Nel punto In cui Voi Siete Morti E Non È Affatto Buono Inoltre C'è Da Dire Che Loro Non So Sopportano La Luce Perché Si Ci sono Molti SCP Che Non Sopportano Vedete Se Noi Andiamo A Illuminarli Loro Impazziscono E Scappano Quindi Loro Non Sopportano La Luce E Richiedono Soprattutto Il Buio E Niente Questo In sostanza È SCP Intanto Uno è Scappato Uccidiamolo E Niente Ultimo SCP Perché È Facile Da Capire È L'SCP 902 Ovvero Il conto Alla rovescia Finale Crafting Del token Abbastanza Facile Ma Si Dai E Non È Nulla Di Chissà Quanto Particolare Perché L'SCP È Un Ticchetti È Una Cassa Vi Spiego È Una Cassa Intanto Qua ci Sono Tutti Dei Tubi Particolari È Una Cassa Che Produce Letteralmente Un Ticchettio Voi Non Lo Sentite Ecco Qua Questa È La Cassa SCP 902 The Final Countdown Non Fa Niente C'è Si Comporta Come Una Cassa Produce Solamente Un Ticchettio Che È Molto Fastidioso Perché Si Sente A 50 Blocchi Di Distanza Quando Non Dovrebbe Essere Così E Quando Clicchiamo Col Tasto Destro Si Apre La Cassa E Ci Scrive Appunto Un Messaggio In Chat Che Dice Che There Is Nothing In The Box Ciò Ovvero Non C'è Nulla Nella Cassa Ha Chiuso La Forte Cassa E Niente Niente Ragazzi Anche Per Questo E Tutto Spero Che Il Video Vi Sia Piaciuto Come Ho Già Detto Devo Fare Altissime Altri SCP Tipo Abbiamo Anche Abbiamo Come Prossimo Paracea Che Avevo Fatto Un piccolo Accenno Con Gli Shadow Spider Quindi Niente Io Comunque Ragazzi Direi Che Vi Grazie Cioè Se Il Video Vi Piaciuto Lasciate Un Bellissimo Like Se Vedere Il Primo Episodio Con Gli Altri SCP Che Non Ho Mostrato E Niente Ragazzi Da me Eletro Senti E' Tutto Ciao Ciao